la zona di atterraggio è presidiata io e Psyco ci spostiamo verso l'origine del segnale Nomad c'è un checkpoint nella valle occupati di questo prima di tutto ti trasmetto le curvi come fa a morire dai due morti stupide ho già fatto è bello che si può interagire con gli oggetti che trovi in giro cos'è questo? ah il motore di una barchetta ah ok scusatemi no di nuovo no ok ora sto cominciando a fare delle morte ancora più stupide presidiata io e Psyco ci spostiamo verso l'origine del segnale Nomad c'è un checkpoint nella valle occupati di questo prima di tutto ti trasmetto le coordinate cristo santo vedendo che fai quel cazzo di rumore con la musica madonna mia che due coi che oi che due coi che oi che due coi che oi non 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 Grazie a tutti 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 Guarda quelli Oh Un bel po' di volte Ah come Far Cry Che i disegnali con La fotocamera Vengono segnati nella map E' un po' ricorda qualcosa di Far Cry Questo gioco Qualcosa del genere Vediamo adesso Vediamo dove devo andare Per fallire fuori Noi che mi hanno visto Mi hanno visto? Mi hanno visto? Mi hanno visto? Non mi hanno visto Oh una bomba No non mi hanno visto Ops E' caduto Poverino Occultamento attivato Occultamento attivato Andiamo se ci arriva in tempo Ma ci dovrebbe essere qualcosa per Far dare un upgrade A questa corazza Energia al minimo Energia al minimo C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno Lì? Uno guida? E l'altro no Ok 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 No è ancora vivo E' ancora vivo lo stronzo Ok Ok Andiamo alla torcia Mettiamo il mirino Mettiamo il silenziatore Ocultamento attivato Dai Uff Mi stanno sparando Passa la modalità corazza Cristofan Preso Finito Conque Finito Ok Un po' Ok 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 C'è nessuno Che Ti C'è nessuno Il C'è nessuno Il Dezza Il Oh mio Dio, c'è un nemico Qualcuno mi ha individuato Mamma mia Ma non ne hai granate? Cristo Santo, non ne hai granate Preso Oh no Cristo Mamma mia Cazzarola Prendiamo in un'altra maniera adesso Cazzarola, chi è questo? Chi sono? Cosa siete? Ma porca troia Non Cazzarola 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 Cola Preso Niente qui Ok tu Ok Questo va benissimo Ok 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 C'è un'altra roba? Che sarano Non lo ho preso per niente 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 Ci vorrebbe qua qualcosa Un fucile da cecchino ci vorrebbe più che Morto Ascoltate abbiamo localizzato il segnale di soccorso in una valle 3 km est Saiko io ci stiamo andando Raggiungeteci ma fate attenzione Il nemico è presente in forze Che è successo? Occultamento attivato Si ok Corazza Massima Troppo forte Ehm 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 Far Cry Blue Dragon C'è un punto raggiunto Da ver Finalmente si parte la sua No No Vabba no No Guardi mettiamoci prima persona Ah no 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 CARZA! Guarda ma ti sono solo più Guarda quanto è il volume che succede? Ma robbia di al massimo Quindi andiamo Grazie Luna Sempre presente nei miei viti Yes Possiamo andare eh Andiamo avanti Senza problemi Senza problemi Stesse attività nemiche intorno alla tua posizione Mantieni un basso profilo Va bene Così Scusate Scusate Scusatemi Curazza massima Finito? Non lo so Non mi fido Non mi fido però Quante munizioni può portare queste? Ho già 8 caricatori Scusate Oh Finalmente le granate a frammentazione 5 Non lo so Scusate Cosa Questa è una ab whiskersione? Scusate Cosa Ma no 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no Poverino Ma dove è andato? Che si era messo dentro l'albero? Ah, ok Davvero impegnativo questo gioco, specialmente alla massima difficoltà Cristo santo Si è caduto Facendo la capriola Oh no Oh no Nomad, sei vicino al posto di comando Passa la modalità occultamento e prosegui nascosto Come no? L'obiettivo secondario? Io che non devo andare a sparare per forza Uno che guida Uno che guida e uno che spara Rimanevo qua Quindi Sparisce così? No 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 Ancolizzati Tu 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 Non serve la niente che mi ha iniziato se poi già mi veda Non mi vedi vero? Ma prima spari a me poi spari all'altro Ma guardate Come hai fatto a vedermi? Tutto stronzo di merda Quello lì deve essere l'accappamento Quello lì deve essere l'accappamento Non 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 Nel centro comunicazioni Controlla quei terminali Vedi se riesci ad accedere alla loro rete tattica Mi cerca fuori Ecco sono dentro sto scaricando grande frammentazione massima ho le informazioni che raggiungo il punto d'incontro grazie Grazie Secondo i rapporti hanno evacuato l'intera popolazione civile nel giro di pochi giorni Non lo so questo l'ho lasciato vivo Sembra che a capo dell'intera operazione ci sia il generale Ri Changkyong Se qualcuno sperava fosse una cosa facile beh mi spiace deluderlo Kyong significa guai e ai suoi ordini c'è un'unità delle forze speciali delle pc Corazza massima Ah ti lancio in mare e ti fai un bel tuffo Non così però Dovevo lanciarti in acqua magari c'era qualche trofeo psn Aspetta un attimo Qualcuno mi ha visto Qualcuno mi ha visto Ma che cosa è quello sullo sfondo? Nemici E quello è lasciati qua E quello è lasciati qua Oggiò Oggiò Caramba Oh merda Che culo Andiamo Come si può andare al punto Interessato Il punto primario Andiamo di finire sta parte perché già mi sono rotta la palla Infiltrazione eh Chi c'è ancora? Questa cazzo di barca Ma tu guarda oh Ma come cazzo faccio a beccarmi? Mi serve un fucile da cecchino Oh ma tu guarda questo come mi dovrei beccare da lontano Peggio di un città Un momento Energia al minimo Bene si ricarica in corsa Oh merda Non lo dici adesso Che dopo che arriva Mi sparan da su Mi dice Adesso che un barco usando le granate C'è un barco Sei nei pressi di una linea difensiva delle pc Usa le granate per aprirti un barco Non mi rimanere Preso? Mi devo infiltrare Come cazzo faccio a infiltrare? Se già mi sparano addosso mappure fucile a pompa e cos'è prof vieni qui e basta se te lo dico non ci credo oh mio dio la mamma di stifle magari hanno circostato i bastardi ma devo salire qua sopra adesso lasciatemi in pace eh orani del cazzo non mi vedi? cazzo che levetta di merda che ho c'è ancora qualcuno lì non mi vedi non mi vedi non mi vedi Oh merda! Sta arrivando qualcosa a butto! La massima difficoltà dice che non ti dicono se c'è la brisa di granare Non ti dice che c'è la brisa di granare Ohhhh Non deve far male Ah dai fucile a pompa contro fucile a pompa dai Fucile a pompa contro granata dai vediamo se ce la fai Mori Ho vinto io Tu hai perso Cosa? No me lo porto al presso Un applauso grazie Maratoneta Energia al minimo La chiamata di Lusca Ah scusa un attimo Ehm 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 I Un applauso no che è successo? filmatino era ora che arrivassi eh si è avuto da fare riesci a crederci? cosa? una nave piena d'azoto? pare che da queste parti sia difficile trovare parcheggio siamo in un vicolo cieco e ho perso il canale sicuro con il JSOC parcheggio tutti cortoso ehi capo guarda qui una carta topografica c'è una zona evidenziata c'è un piccolo terremoto in casa come fai a dirlo? senti non abbiamo nient'altro diamoci una mossa io non vado proprio da nessuna parte se non mi dai subito delle spiegazioni non credo più a quelle stronzate sul trovare e prelevare e da quando i nordcoreani hanno un fottuto raggio congelante? esatto qui mi sembra di essere finito in un fumetto del cazzo vi ho detto tutto quello che dovete sapere tutte stronzate e tu lo sai Astec è morto e noi non abbiamo idea di che cosa l'abbia ammazzato io l'ho visto bene capo era mutilato squartato in due insomma di cosa stiamo parlando? qui non si tratta di coreani Jester ha ragione se questo Rosenthal fosse un idiota qualsiasi non saremmo qui basta così Psyco avete ricevuto degli ordini il nostro lavoro è trovare quelle persone ed è quello che faremo adesso muoversi ma che cazzo? e questo è un ordine c'è qualcosa oh che è sta cosa? ha preso Jester dobbiamo andarcene che è un cavo amaro gigante robotizzato oh no avanti muoversi muoversi no 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 l'avete visto? dove è andato? ma io che cazzo non so questa parte forza andiamo io spezzo qui let's play perché già ho fatto parecchie morti quindi mi devo un po' riposare e noi ci vediamo al prossimo alla prossima parte quindi domani ciao ciao